Dillo tu perché abbiamo scelto Dario? Perché fa delle foto della Madonna? Servizi pazzeschi, fotografie sul disco che sono fantastiche, guarda! Ha saputo trasformare una giornata di pioggia in una pioggia di stelle. Perché è pazzo! È molto simpatico ed è un gran professionista. Per fare questo lavoro gli piace un casino. Riesce a trasmetterti una passione che ha lui per la fotografia. E le sue foto ci piacevano di più. È originale. Perché ci hai subito coinvolti. Ci piaceva il suo stile. Disponibile. Buon gusto, lo stile, la professionalità. Creativo. Innovativo. Perché è bravo. La sua grande umanità. Le stesse abilità che ha uno scrittore. Come un gatto, un serino che si aggirava ma molto discreto. Presente ma discreto. È una persona carina e a modo. E ti fa venire sempre bellissimo in foto. È simpaticissimo. Ha capacità di riuscire a mettere a proprio agio. Ho scelto Dario Musio perché è un figo! Allora... 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 Grazie.